Lei dice che ci sono due prospettive, o chi critica lo fa per amore, per eccessivo amore, oppure a un secondo fine, quale potrebbe essere? Politico? Beh, sicuramente criticare l'amministrazione che si sta occupando per la prima volta dopo molti anni del simbolo della città di Bassano, perché è innegabile che questa amministrazione stia cercando di ristrutturare il ponte. E quindi qualcuno gioca la partita del confronto con noi soltanto sul ponte, insomma, il che è anche, oltre che ingiusto, sbagliato perché poi stiamo facendo molte altre cose, ma insomma questi sono punti di vista. Questa è la risposta di Roberto Campagnolo ai gufi, quelli che proprio quando i lavori sono ripartiti sono tornati a criticare l'amministrazione sul restauro del ponte. L'interesse politico non può, non deve superare l'interesse collettivo della comunità e quindi, oltre a essere arrivate fuori tempo massimo, queste critiche sono anche fuori luogo. Lo spirito dell'azienda ora è propositivo, i problemi che pur ci sono stati, sono stati risolti. Questo è quello che percepiamo in questi ultimi mesi, un livello di attenzione più alto, attenzione verso le soluzioni che vengono proposte. Anche qui ho letto di polemiche assurde, insomma questo è un progetto che ha delle parti che sono in qualche maniera vincolanti, altre che possono essere valutate, perché lo prevede il progetto stesso e rispetto a questo la dita sta facendo delle proposte, cosa che non faceva prima. In via di risoluzione anche le questioni legate all'illuminazione e alla pavimentazione del ponte. Abbiamo parlato con sovrintendenza, con il quale siamo in contatto costante, c'erano due riserve da parte loro, abbiamo coinvolto e ci vedremo all'inizio anno l'ordine degli architetti di Vicenza per fare una riflessione insieme.